La riallocazione dei migranti in Europa si è fermata, provocando un momento di stallo nella gestione dei flussi anche in Puglia. A renderlo noto è Mario Marazziti, vicepresidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione e trattenimento dei migranti, incontrando i giornalisti al termine della due giorni di visite a Bari. Il programma di relocation, così tecnicamente viene definita la riallocazione, prevede che Taranto diventi un hotspot, ovvero un centro di identificazione che dia certezze all'Europa sul fatto che le frontiere sono presidiate, in modo tale da rendere anche più normale la circolazione dei migranti sul territorio comunitario. Bari, invece, ha aggiunto Marazziti, dovrebbe diventare un hub per la relocation e quindi trasformare parzialmente la vocazione del centro richiedenti asilo con una parte adibita anche al transito rapido. Ma fino ad oggi, nell'ambito di questo accordo, da Bari sono stati riallocati solo 17 migranti e 130 in tutta Italia. Giuseppe Brescia, membro della commissione d'inchiesta, ha spiegato che attualmente il sistema dell'accoglienza purtroppo rappresenta un sistema d'affari di fatto, mentre si dovrebbe andare verso una umanizzazione. Spero che la questione si risolva, ha concluso perché parliamo di esseri umani che scappano veramente da guerra, fame e povertà e un paese civile come l'Italia dovrebbe saperli accogliere nel migliore dei modi possibili.